Bella a tutti ragazzi, Corgasmic, sono qui a portarvi un nuovo squad builder, sappiamo che in un gioco dovremmo divertirci anche se magari quest'anno FIFA non ci fa così tanto divertire, ma con questa squadra in particolare sì, io mi sono divertito davvero molto, dall'inizio di FIFA praticamente mi state chiedendo di portarvi una squadra con Polsen, il Silver Ibrahimovic per capirci, e stavolta ve l'ho portata così siete felici, quindi lasciate un bel like, un pollicione, un bel commentino. Quindi partiamo subito, ho usato il modulo 4222 che è un modulo che secondo me prima di utilizzarlo bisogna un po' saperlo giocare perché non è facilissimo, comunque la squadra costa relativamente poco ed è una BSG, quindi Bronze, Silver e Gold, che secondo me sono le migliori perché sono veramente divertenti da fare e da utilizzare. Comunque, portiere ho utilizzato, se ovviamente lo trovo, eccolo qui, Claudio Bravo del Barcellona, davvero un gran portiere, mi sono, ovviamente quando l'ho visto secondo me è un portiere assurdo, ecco non mi venivano le parole, un portiere assurdo, mi ha fatto delle parate veramente incredibili e delle volte mi ha salvato proprio il risultato perché con i riflessi che ha riusciva a parare qualsiasi tiro del mio avversario, davvero un portiere fortissimo che ho pagato pochissimo, quindi prendetelo perché ne vale veramente la pena. Poi, il terzino di destra è bronzo e sto parlando di Teigl, che è questo tizio austriaco dell'Ipsia, che è un ottimo terzino anche se non ha delle statistiche probabilmente da terzino, visto che lui l'anno scorso se non sbaglio era esterno, adesso è stato messo terzino, comunque va abbastanza bene, con Guardiano gli aumenta la difesa, quindi poi va abbastanza bene anche la difesa, ha un ottimo fisico ed è velocissimo, quindi davvero un buon giocatore che non costa neanche tante cose. Poi, difensore centrale di destra è oro e se non sbaglio adesso non mi ricordo più chi cavolo era, Varane, eccolo qui, non mi veniva in mente, comunque Varane è davvero un ottimo difensore centrale perché ha un buon fisico, è molto alto, è fortissimo in difesa e ha ovviamente un'ottima velocità e poi costa poco, davvero un ottimo centrale. Come del resto mi è piaciuto anche il suo compagno di reparto che è Argento e si tratta, se carica, di Fernandez, altro centrale del Real Madrid, anche esso molto simile a Varane per statistiche, ovviamente paragonate a un giocatore Argento, ottima velocità, ottimo valore di fisico, ottimo valore di difesa. Peccato che non è altissimo, però sappiamo che quest'anno i colpi di testa non sono tanto efficaci, quindi va anche abbastanza bene, mi ha fatto tra l'altro un assist. Poi il terzino di sinistra invece è oro e ho utilizzato, adesso è non raro se non sbaglio, Tremulinà che è anche lui un buon terzino, guardate che belle statistiche che ha, davvero mi ha sorpreso, buona velocità, ottimo passaggio, non si trovano tanti terzini valutati comunque 77 con questi buoni valori e è buono anche in fisico e in difesa, quindi provate anche lui costa poco e ci sta di brutto. Mentre passiamo al centrocampo, troviamo come centrocampista difensivo di destra Argento Cochrane, che è la versione upgrade di questo giocatore dell'Arsenal francese, un gol e un assist in quattro partite, quindi devo dire che va abbastanza bene, il prezzo ovviamente è altissimo perché è una versione upgrade, gioca in Premier League dell'Arsenal, costa tanto, secondo me non vale tutti questi soldi, però è l'unica alternativa, dopo vedrete. Comunque io devo dire che mi sono trovato veramente bene. Mentre come suo compagno di reparto è un giocatore oro, si è oro e si tratta di Diaby che fa tripla intesa Perfect Chemistry con l'altro suo compagno Cochrane, lui veramente mi è piaciuto molto perché lo trovavo in ogni parte del campo dove mi serviva, ha una discreta velocità e comunque molto completo come giocatore e recupera tanti palloni d'ante alla difesa che è la cosa fondamentale di questo ruolo. Poi, CoC di destra, bronzo, è Reina che in realtà il suo ruolo originario è ATT nella sua versione transfer ed è veramente un ottimissimo giocatore che purtroppo non ha un passaggio molto alto. Per dire, l'anno scorso aveva, se non sbaglio, sui 35 di passaggio che era veramente brutto, però quando partite ragazzi in contropiede con lui ha una velocità e un'agilità e un dribbling veramente incredibile. Ma neanche un Tiago Silva riuscirebbe a fermare questo giocatore, è veramente impressionante questo giocatore, provatelo perché ne vale veramente la pena. Poi, mentre a sinistra troviamo un CoC non raro che mi ha veramente stupito anche lui, stiamo parlando di Ben Yedder, davvero un gran giocatore, non me lo aspettavo, mi ha fatto due gol e un assist in quattro partite. L'ho utilizzato tempo fa, molto tempo fa, in un'altra squadra, a random, davvero un ottimo giocatore che sembra che abbia di più di 81 di velocità, secondo me, perché mi sembra che fosse più veloce. Ha un grandissimo tiro, un'ottima finalizzazione, un ottimo passaggio e un ottimo dribbling con quattro stelle vedete, ha quattro stelle piede debole. Provate anche lui, non ve ne pentirete, è davvero fantastico. Poi, attaccante di destra è la star della squadra, se carica ovviamente, riusciamo anche a vedere. Dovrebbe trovarsi, è un 67, se non sbaglio, eccolo qui Polsen, Yusuf Polsen, davvero un discreto giocatore, pensavo meglio, ma questo penso sia un giocatore da utilizzare in attacco a 1, non in attacco a 2, però mi sono trovato comunque abbastanza bene, ha un'ottima fisicità, è molto veloce, anche se un po' macchinoso delle volte, però ha quattro stelle abilità che lo rendono veramente buono, altissimo, con un tiro non fenomenale, anche la finalizzazione non è il massimo, però comunque sia una buona spalla, mi ha fatto due gole e un assist in quattro partite, come spalla va abbastanza bene. Ma il giocatore più forte di questa squadra è senza dubbio l'attaccante di sinistra, che è Oro, e si tratta di un giocatore molto molto importante del mio canale, e ovviamente se adesso riusciamo a trovarlo, qui ne ho 250.000, Bright White è un giocatore veramente incredibile, mi ha fatto cinque goli in quattro partite, tre assist, davvero incredibile come media, considerando che segnano anche altri giocatori nella squadra, ma lui è quello che segna maggiormente, velocissimo, ottimo dribbling, con quattro stelle abilità e quattro abilità, buon tiro, praticamente non sbaglia mai un tiro ragazzi, ha una finalizzazione pazzesca in game, che praticamente non sbaglia un tiro davanti al portiere, segna sempre, ha un discreto passaggio presso un attaccante, e un buon valore di fisico. Se avete notato, hanno entrambi gli attaccanti alto alto di Warcraft, ma questo non fa molta differenza, non intacca molto il gameplay, devo dire che mi sono trovato molto bene con tutti e due. Quindi raga, fatevi questa squadra perché è molto divertente da utilizzare, che è la cosa più importante secondo me, divertirsi in questo gioco, costa poco e vi rende tantissimo, non ho mai perso, ho sempre vinto divertendomi. Come sempre raga, vi invito a lasciare un bel mi piace, 300 mi piace uscirà un nuovo video, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa squadra, quali altre squadre volete vedere in futuro sul mio canale, molto importante rispondere a questo quesito nei commenti, così so sempre che squadre portarvi nei prossimi episodi, vi invito a iscrivervi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link come sempre li trovate in descrizione, vi lascio le clip, ci vediamo al prossimo video, bella raga! Ciao! Ciao!